a partire dalla sua prima apparizione alle olimpiadi di sydney nel 2000 il triathlon è in costante crescita questo sia a livello amatoriale che a livello anche giovanile e assoluto il triatleta viene visto dagli altri sportivi come piuttosto egocentrico iper accessoriato tatuato e delle volte lo vediamo anche alla polistica della domenica vestito come se dovesse andare a fare un Ironman quindi col body con il porta pettorale in vita la visiera l'occhialino insomma potremmo farne anche a meno però diciamo che ci piace sentirci triatleti un po tutto l'anno sono qui per darvi tre consigli sulla nuova stagione e partiamo subito dal primo che è costruzione è molto comune staccare dalle tabelle a fine stagione e quindi prendersi un periodo di pausa il rischio è che questa pausa poi venga protrata per troppo tempo perdendo così uno dei momenti secondo me cruciali dove poter analizzare col coach quello che è andato bene o andato male nella stagione appena terminata questo ci permetterà da un lato di calendarizzare meglio e con largo anticipo la nuova stagione e dall'altro di pensare a una costruzione in questo periodo e come costruzione intendo lavorare sugli aspetti che sono deboli ovvero può essere la nuotata quindi farsi analizzare il nuoto andare a vedere l'assetto in acqua può essere la biomeccanica quindi andare a biomeccanico e migliorare il nostro coefficiente di attrito quindi avere una posizione più aerodinamica più efficiente quindi maggiore velocità parità di watt e lavorare sulla forza abbiamo visto un video andatevelo a vedere nel nostro canale il video di elisa sulla forza io vi consiglio di inserire all'interno della vostra routine uno o due sedute di forza settimana questo vi permetterà di essere atleti più forti più efficienti avere un maggior rapporto peso potenza e ridurre il numero di rischi ridurre il rischio di infortunio il secondo punto secondo consiglio è metodologia vedo troppo spesso triatleti che si allenano monomarcia quindi da fondo medio z3 in su ecco io vorrei che imparaste dai professionisti o prendere spunto dai professionisti dove vediamo che quello che lento è lento e quello che è forte forte e quando parlo di lento anche se correte a 5 30 o 6 chi se ne frega insomma il termometro lo sarà in gara in allenamento fidatevi correte per cercare di mantenere basso il vostro cuore e mantenere basso il passo ecco questa metodologia prende un po spunto da quello che è polarizzato il metodo polarizzato di steven sealer andatevi a vedere la scala gerarchite dell'allenamento di endurance o i trattati iscritti su base scientifiche da sealer oppure può essere il metodo piramidale insomma la metodologia verrà scelta dal coach in base anche alle caratteristiche della persona però sarà molto importante andare a lavorare sulla distribuzione dei carichi a livello di settimana e quindi la periodizzazione sarà basata un po su di voi quindi in base allo stress che avete di lavoro in base al vostro stile di vita numero di allenamenti che fate però una cosa importante è questa andare a lavorare sulle variazioni basso basso veloce veloce e mai fissarsi su un ritmo medio medio alto il terzo consiglio è curiosità e per curiosità intendo sperimentazione adesso non voglio che fate tutti tutti come me che domenica scorsa ha fatto una sei ore a grosseto correndo 82 chilometri però sperimentate uscite dalla vostra zona di comfort se avete una non avete mai fatto una maratona fatto una maratona se volete fare una randonna in bici fate una randonna in bici se vi piace usci di fondo perché no winter triathlon insomma cercate di variare perché queste variazioni vi permetteranno di acquisire maggiori informazioni su sul vostro corpo maggiore consapevolezza e questo ve lo ritroverete poi nel corso della stagione quando la routine sarà la solita quindi i volumi di nuoto bici e corsa ecco questi sono i tre consigli fondamentali che mi piacerebbe condividere con voi fatemi delle domande iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima buon allenamento ragazzi